in collaborazione con musica Buonasera amici e amiche che ci seguite da casa e bentrovati alla riflessione. Il Forma di Informazione Politica, Sociale, Culturale ed Economica è con noi il nostro esperto della società civile, l'Avvocato Michele Cutolo. Buonasera a tutti gli spettatori e telespettatrici. Questa sera una puntata dedicata al mondo della nautica e dell'artigianato di cui parleremo con il commercialista, consulente del lavoro, docente di marketing e comunicazione delle imprese, ora febresso la Lyum G. Monnet e segretario generale di Oritali, il dottor Gianni Lepre. Buonasera e benvenuto. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, come azionato, stasera parleremo, dottor Lepre, della nautica. Si è appena conclusa la fiera Nautic Sud, che è la fiera di nautica, l'esposizione nautica più grande del sud Italia. Arrivata la sua cinquantesima edizione. Come è stata, secondo lei, e che cambiamenti di interesse e di influenza ha notato nei confronti di questo settore? Per la verità, questa è stata la quarantanunesima edizione, la cinquantesima ci sarà a febbraio del 2024. Questo è per puntualizzare, anche perché gli organizzatori del Nautic Sud, in modo particolare il presidente della FINA, Gennaro Amato, ci tengono molto e per quell'occasione cercheranno di fare le cose davvero in modo importante. Sarà una fiera nautica dedicata addirittura a tanti paesi internazionali, in modo particolare per tutti i paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Quindi ci sarà una preparazione importante per il cinquantesimo del Nautic Sud. Ma detto questo, in effetti, veniamo ai numeri. I numeri, la fiera si è chiusa da pochi giorni, ci sono ancora da analizzare, però effettivamente l'affluenza è stata un'affluenza importante. Ci sono stati, ecco, gli imprenditori che hanno preso parte al Nautic Sud, certamente sono stati contenti degli affari che hanno portato a termine e quindi bisogna, come devo dire, rimarcare, fare in modo che questo trend, un trend positivo, vada comunque avanti. Noi dobbiamo rammentare che la Nautica addirittura, e sono dati statistici, quindi non inventiamo niente, la Nautica addirittura, malgrado la pandemia, malgrado l'inflazione dovuta all'aumento delle bollette alla guerra, ha avuto comunque un trend positivo, con dati che migliorano anno per anno. Tra le altre cose, noi dobbiamo dire che trattasi, per quanto riguarda la Nautica di Porto, quindi attenzione, solo la Nautica sportiva, quella da divertimento, praticamente, parliamo nell'intero Paese di 26 mila addetti, 180 mila occupati, 12 miliardi di giro d'affari, teniamo presente che qui in Campania, in effetti, ci sono oltre il 15% di questi dati complessivi. Ecco, ma, Dottor Lebre, quest'anno è stata la 49esima edizione, come giustamente lei diceva, però i partecipanti, sempre più numerosi, c'è anche di azienda, anche non solo nazionale, anche internazionale. Quello che, insomma, ha colpito, è che girando i vari padiglioni, i prodotti e il prodotto Nautico hanno migliorato tantissimo, anche sotto l'effetto dell'efficacia della resina, che ormai va per la maggior, cioè le imbarcazioni sono quasi tutte in resina, difficissime trovare qualcosa in legno. Questo ha fatto sì che comunque anche il prezzo e i prezzi sono un po', tra virgolette, calmerate rispetto ai valori di una volta. Io ho avuto modo di verificare che effettivamente barche molto interessanti, anche di 5 posti, 6 posti, abbastanza accomodanti, prezzi, come dire, che possono essere alla portata quasi come un motorino di oggi, se uno con un ciclomotore di oggi che acquista. Secondo lei, questo da economista, questo fattore, si è determinato soltanto perché per i prodotti e per la commerciazione dei prodotti che vengono usati e anche poi paradossalmente per i motori, ricordiamo le case più importanti, Suzuki, Yamaha, eccetera, o invece un fenomeno che l'imbarcazione mondiale, cioè l'anautico internazionale mondiale, soprattutto quello dell'Arabia o dei paesi asiatici, ha sviluppato al ribasso rispetto a quello di qualche anno fa dei grandi cantieri nostri italiani. Io devo dire che in effetti, premesso che io non sono un tecnico, quindi devo guardare le cose dal punto di vista dell'economia, quindi non conosco bene i termini della resa e quindi la differenza tra l'una e l'altra imbarcazione, però naturalmente dobbiamo tenere conto che il calmierarsi dei costi è un fatto positivo, tant'è che poi è una politica che ha pagato, perché come detto prima, il trend è comunque sempre positivo, parliamo addirittura nel 2022 di statistiche che ci dicono più 15% del giro d'affari complessivo e quindi vuol dire che è una politica a ribasso che ha comunque pagato. Ma secondo lei poi, da un punto di vista proprio economico-commerciale, visto che comunque l'indotto è molto importante della nautica, perché al di là delle imbarcazioni che vediamo sullo schermo, che passano le immagini, tra l'altro anche bellissime barche veramente entusiasmanti per come sono allocate, ristrutturate e anche confortevoli, l'indotto che va dai motori alla giacenza nei porti e quindi nel rimessaggio, eccetera, eccetera. Che incidenza, dal punto di vista di, diciamo così, tra virgolette di PIL, può andare a incidere e può incidere ancora ulteriormente la Nato che nello sviluppo dei porti, ricordiamo che in Regione Campania la giunta di Luca ha messo in piedi una serie di attività per realizzare nuovi porti, sia nel Salernitano, cosa già realizzata, il porto costa di Amalfi è una realtà, sia a Castellemare di Stapico, un nuovo porto che è stato aperto e si parla adesso tra la zona di Castelvolturno, di Baia Domizia e del Casertano. Diciamo che praticamente si è tenuto un convegno anche pochi giorni fa proprio al Nautic Sud, un convegno al quale ha preso parte anche la Ministra al Turismo Sant'Anche, praticamente in cui effettivamente si è parlato di migliaia di posti barca da realizzare, tutto questo naturalmente è positivo, però ahimè io temo perché poi mentre si parla di realizzazione di migliaia di posti barca purtroppo si parla anche di burocrazia e noi sappiamo qua quanto la burocrazia conti purtroppo ahimè in modo negativo, tant'è che la FINA si è, come devo dire, industrializzata in questo senso, nel senso che ha presentato... Vediamo le immagini della Ministra Sant'Anche che visita i padiglioni la settimana scorsa che era presenza importante perché questo è il turismo che viene... Ecco, parlavamo proprio della Ministra Sant'Anche, per cui stavo dicendo la FINA ha preparato un progetto qui a Napoli che prevede la realizzazione di 600 posti barca che non sono tanti e che quindi sono realizzabili nell'immediatezza perché quando poi incominciamo a parlare di migliaia, di decine di migliaia di posti barca si sa quando si inizia a parlare non si sa quando si inizia a realizzare tra le altre cose e io personalmente mi sono un po' divertito come dire con i numeri per dire che in effetti 600 posti barca che sono pochissimi non sono poi tanti facilmente da realizzare possono apportare tanto tanto beneficio all'intero settore infatti se oggi si considera che su 10 barche prodotte 5 non trovano posto barca per cui è ovvio ed evidente che la gente può essere anche demotivata a farsi la barca ma non perché non se la può permettere non perché non le piace ma perché praticamente sapendo di andare incontro a determinate difficoltà può anche desistere su questo per cui dicevamo la realizzazione di 600 posti barca porterà commesse in più parliamo della nautica campana quindi della nautica specificamente quella napoletana 300 milioni di commesse in più porterà 325 milioni in più tra rimessaggi costo dei posti barca quindi 6.300 posti di lavoro in più naturalmente e questo potrebbe essere grasso che cola visto comunque la problematica della disoccupazione in modo particolare in Campania io amo sempre parlare di numeri siamo come tutti sanno in Italia siamo al 10% della disoccupazione in Campania la media al 15% quella giovanile al 30% in Campania al 40% per non parlare della disoccupazione femminile 50% in Campania al 60% quindi quando parliamo di 6.300 posti di lavoro parliamo di 6.300 posti che sono importanti per la nostra economia ma non finisce qui perché tra le altre cose noi abbiamo calcolato che con 600 posti barca in effetti la stagione nautica dura da aprile a settembre quindi una stagione nautica che potrebbe portare circa 50, 60, 100 mila in questo momento 100 mila persone in più che stazionano per più giorni significano ancora 200 milioni per l'indotto della città rammentiamo e poi volevo rammentare che in effetti Napoli è la città più vista su TikTok 17 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo più di Roma di Firenze di Milana di Venezia e quindi tutto questo apporterebbe anche una economia per la nostra città con la creazione di 1500 ulteriori posti di lavoro ecco lei ha partecipato al convegno proprio che si è tenuto giovedì scorso proprio all'interno della fiera e dove c'era oltre alla ministra Sant'Archè c'era anche il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente Amato appunto che organizza questa bellissima Kermess c'era anche l'assessore al turismo Casucci regionale che mettevano in evidenza una cosa fondamentale che con la ristrutturazione del molo Beverello che si sta sviluppando e con il molo di San Vincenzo su cui il sindaco c'era anche l'assessore al bilancio del comune di Napoli Barretta sì però quello che è importante è come dire lo vediamo nelle immagini tra l'altro che c'è il sindaco infatti che taglia il nastro all'inaugurazione appunto della mostra e diciamo che con la ripresa anche del molo di San Vincenzo al porto di Napoli lì l'amministrazione comunale credo che abbia intenzione appunto di ampliare un po' su Mergelino un po' su quel porto una parte di banchina che attualmente non è assolutamente utilizzata e quindi questo nell'ottica di quello che lei diceva è fondamentale voglio dire tra l'altro in questa occasione dell'apertura della mostra d'altremare c'erano anche illustri autorevoli ospiti ricordiamo che c'erano anche i padiglioni della guardia di finanza guardia costiera la polizia la polizia di stato dell'esercito che ovviamente la finanza per quanto riguarda ovviamente i settori i reparti che riguardano ovviamente la nautica e vi dicendo ecco proprio a proposito di questo abbiamo la bellezza anche delle nostre isole che sono fondamentali per il turismo mentre Ischia o meno qualche porticciolo in più ce l'ha qualche problema ce l'ha invece sia Capri che Procida perché i due porti non sono così accoglienti diciamo così lei pensa in quello dibattito con l'assessore regionale al turismo e col sindaco della città metropolitana di Napoli secondo lei c'è una possibilità ulteriore di ampliare quello che sono praticamente i fenomeni di sviluppo dell'ormeggio che è un problema serio di portismo napoletano e campano diciamo che in quella sede certamente la volontà di ampliare anche i porti come devo dire di quelle isole che non hanno tanto la vocazione alla nautica di porto è stata manifestata però ovviamente si è parlato di progetti ancora a divenire come devo dire quindi purtroppo in quel caso temo ci voglia ancora un po' di tempo ecco io direi come praticamente ho detto un po' prima incominciamo con realizzare le cose che sono possibili da realizzare e poi si lavora sui progetti a lungo termine ovviamente questa è la mia opinione quindi è ovvio che non fa non fa ricco lei ha detto che tra l'altro abbiamo visto anche lei all'inaugurazione quindi l'abbiamo visto nelle immagini quindi è uno autorevole esponente e comunque sostiene molto l'artigianato e in questo settore come anche la nautica c'è tanto artigianato perché magari a prodotto finito l'utente non si accorge che c'è tanto lavoro artigianale dietro a un'imbarcazione o comunque o sia un'imbarcazione di piccolo di porto oppure un'imbarcazione grosso uno yacht c'è tanto artigianato per le rifiniture per tutto quello che riguarda il possibile immaginario indubbiamente ci sono case galleggiande a volte attorno ad una barca il lavoro artigianale è prevalente addirittura io direi perché se è vero che il motore ecco viene realizzato in posti diversi ma l'imbarcazione quindi lo scafo io adesso non uso termini proprio tecnici le rifiniture vengono fatte da artigiani quindi il lavoro artigianale è importante come è importante per tutto il comparto in modo particolare quando parliamo di comparto di artigianato di eccellenza che comunque dal mio punto di vista è una voce per la nostra economia di grande rilevanza è una voce che tra le altre cose anche nella nautica noi esportano in senso i cantieri nautici nostrani esportano in tutto il mondo quindi anche la nautica è un vanto del made in Italy nel mondo come del resto tutto l'artigianato di eccellenza che comunque ecco incominciamo col dire e insistiamo perché poi tra le altre cose chi ci segue lo sa che noi rimarchiamo spesso il fatto che l'artigianato di eccellenza essendo un vanto del made in Italy deve essere aiutato dalle istituzioni bene e per concludere dottor Lepre Blegger rappresenta appunto un po' il mondo degli artigiani da anni combatte favorevolmente per questa categoria ricordiamo non solo nella Nato ma in tanti altri settori e tra l'altro nella sua grande capacità di esperto anche del consorzio praticamente Oro Italy che insomma poi è un'associazione voglio dire che però raccoglie i veri artigiani dell'oro sostanzialmente quindi dei prodotti in oro ecco qual è il futuro dell'artigianato secondo lei e se con il nuovo governo un impulso maggiore alla tutela dell'artigianato allo sviluppo stesso dell'artigianato lo intravede nelle nuove dichiarazioni del ministro d'Urso o anche della stessa premier eccetera ma anche ho visto anche il ministro San Giuliani di cui lei è consulente ministro della cultura voglia un pochettino per le piccole e medie imprese dare un respiro nuovo se così possiamo dire rispetto agli anni passati allora premesso che come lei ha detto io sono consigliere del ministro San Giuliano quindi il ministro della cultura per nei rapporti proprio specificamente parliamo con le PMI l'artigianato di eccellenza e reti e distretti produttivi di cui sono anche il presidente di una commissione dell'Od Check Napoli cioè dell'ordine dei commercialisti quindi questo vuol dire che il mondo il nuovo governo è vicino al mondo delle PMI e dell'artigianato di eccellenza quindi non soltanto il ministro Urso non soltanto il ministro Fitto per quanto riguarda il Sud perché poi diciamo noi amiamo e teniamo sempre un occhio particolare con con il Sud anche ecco abbiamo instaurato rapporti anche con la ministra Santanchè abbiamo approfittato di quel convegno per cercare di portare ecco quello che sono le peculiarità di Napoli al ministro per cercare comunque di dare una mano a 360 gradi alla nostra città alla Campania al Sud in particolare personalmente cercheremo di batterci il più possibile per questo devo dire che ecco parlando adesso specificamente della come devo dire dell'incarico che ho ricevuto dal ministro San Giuliano devo dire che il ministro è molto vicino alla Campania del resto lo sa tutto che è napoletano la prima visita che lui ha fatto da ministro l'ha fatto qui a Napoli l'attenderemo prossimamente a Girolomini ma non solo ci sono in programmi tanti impegni su Napoli e noi naturalmente cercheremo di sfruttare questa visibilità in modo positivo assolutamente noi le auguriamo un buon lavoro nel suo impegno come consulente del ministro però la nostra intervista per stasera finisce qui quindi io devo salutarla dottor Lepre grazie per essere stato con noi grazie a voi ovviamente ringrazio l'esperto della società civile di diatore del programma l'avvocato Michele Cutolo buonasera a tutti e alla prossima e prima di salutarvi ringrazio il nostro sponsor ufficiale Carpisa Italia io vi ringrazio ci vediamo sempre qui settimana prossima arrivederci e buona serata grazie a tutti in collaborazione con che vi ringrazio il nostro